La blockchain potrebbe portare, secondo alcuni ricercatori, una rivoluzione nel mondo del gigitale addirittura superiore a quella dell'internet. Questa rivoluzione passa attraverso processi automatizzati, i cosiddetti smart contract. Gli smart contract per definizione devono fare delle cose in forma automatizzata e questi smart contract purtroppo non sono così smart nel senso che sono strutturati in modo tale da compiere delle attività semplici secondo dei processi prestabiliti dal creatore dello smart contract. Il problema si pone nel caso in cui si perda il controllo dello smart contract. Che cosa avviene se la blockchain, lo smart contract nella blockchain, fa quello che doveva fare ma lo fa in modo illegale? Questo non è uno scenario del futuro, è uno scenario che è prospettato per esempio con i sistemi DAO, i sistemi di organizzazione automatizzata che prevedono una gestione in forma del tutto automatizzata, senza intervento umano, di una organizzazione. Avviene se l'attività definita nello smart contract che è alla base del DAO non compie attività legali. Non esiste ovviamente giurisprudenza al riguardo ma ho pensato che un possibile spunto può essere fornito dal regime di responsabilità degli Internet Service Provider per esempio. In questo contesto abbiamo la normativa ad hoc per l'e-commerce, la normativa di implementazione della direttiva e-commerce che prevede una esenzione di responsabilità per gli hosting provider, per coloro che ospiano contenuti di terzi, a meno che gli stessi non vengano a conoscenza di un'attività illecita e a questo si affianca una esenzione ed un obbligo di monitoraggio rispetto a attività che vengono compiuti dagli utenti sulla piattaforma o stata dal hosting provider. Trasferendo questo scenario in un contesto di una blockchain si pone il problema se la blockchain che compie attività illecita possa dar vita a una forma di responsabilità a carico di coloro che hanno scritto lo smart contract. Si potrebbe argomentare che poiché lo smart contract funziona secondo modalità del tutto automatizzate non ci sia una forma di colpa di negligenza da parte del creatore dello stesso perché non c'è un atto volitivo o negligente che ha dato vita alla violazione. Allo stesso modo si potrebbe fare uno step back e sostenere che la violazione, il comportamento quantomeno colposo sia stato ingenerato nella creazione dello smart contract nell'ambito del quale non si è tenuto conto di tutte le possibili deviazioni del comportamento che possano derivare dalla sua esecuzione e non si è cercato di adottare soluzioni volte a prevenire tali comportamenti scorretti. Il problema in un contesto della blockchain è che a differenza di quello che avviene nel settore dell'e-commerce in cui c'è una normativa ad hoc con riferimento alla blockchain non c'è una normativa di riferimento a ciò si aggiunga che la ubiquità dell'internet è ulteriormente amplificata in un contesto di una blockchain. La cosa diventa ancora più interessante in una blockchain chiusa quindi non aperta a chiunque voglia aderire alla stessa ma sotto il controllo del creatore dello smart contract e della blockchain. In questo contesto la particolarità è che il cosiddetto taketown che se vogliamo prendere una terminologia che è tipica del mondo dell'internet in una blockchain chiusa potrebbe avvenire, in una blockchain aperta come la Bitcoin non potrebbe avvenire. Si potrebbe quindi pensare se in una blockchain aperta si debbano adottare delle precauzioni ulteriori per consentire una forma di controllo ex post da parte del soggetto che va a creare lo smart contract al fine di evitare una perdita totale di controllo del suo funzionamento.